La squadra mobile di Enna ha arrestato un uomo condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 8 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione mafiosa e per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'uomo venne arrestato nel giugno 2018 nell'ambito dell'operazione denominata Ottagono insieme ad altri due soggetti. L'attività investigativa permise di rilevare che il condannato si era reso responsabile di una tentata estorsione ai danni di un imprenditore edile ed era riuscito anche a esercitare significative influenze nella gestione comunale della raccolta dei rifiuti e del taglio degli alberi correlati al decoro urbano, nonché nell'organizzazione di intrattenimenti a vantaggio di un'attività commerciale da lui gestita. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato condotto dal personale della squadra mobile presso la casa circondariale di Caltanissetta. Il questore della provincia di Enna ha espresso piena soddisfazione anche per l'esito processuale di un'indagine condotta dalla Polizia di Stato nel contrasto alle consorterie mafiose del territorio.